La Croce Bianca del Canavese La Croce Rossa di Castellamonte, i Vigili del Fuoco di Castellamonte, Ivrea e i Carabinieri Secondo una prima ricostruzione, pare che il conducente della Panda, forse per un malore, abbia invaso la corsia opposta andando ad impattare da prima contro il Pullman per poi rimbalzare indietro sull'altra corsia e terminare la sua corsa contro la Opel Il bilancio è di 4 feriti, di cui 3 non gravi, una donna e la figlia, che erano a bordo dell'Opel, e l'autista del Pullman Tutti e tre trasportati all'ospedale di Ciriè In serie condizioni invece il conducente della Panda, che è stato ritrasportato al CTO, il sinistro e il Valle dei Carabinieri Sì 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 Sì